...150 del corretore semistante, derivati di serie con domande semi-slip o meglio stradali, autore del basso-questo di gestione entri-level del mondo delle corse. E' a chiudere la classe 1150 Giovanni Mussolino, anche lui della pilota di perfasione sul Piat 600 a Sporting. Questo è quello che ci è passato su passato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.